Assessore, oggi la visita di una delegazione coreana e di Hong Kong per parlare di turismo, quindi Sanremo non lega soltanto con la Russia, storica amica, con la Cina, ma i nuovi mercati sono un po' ovunque. Beh sì, questa delegazione era composta dai direttori più importanti di sei agenzie coreane di Hong Kong interessate molto alla destinazione e abbiamo dato il benvenuto a nome dell'amministrazione del sindaco Biancheri e presentata la città negli aspetti turistici con le opportunità di conseguenza. Loro conoscono già Sanremo o hanno bisogno di essere informati proprio anche sulle basi della nostra città? È questo il problema, che Sanremo non è conosciuta, come mi hanno detto gli operatori, non è conosciuta a sufficienza né in Corea né a Hong Kong, mentre sono interessati, già operano nel territorio francese attraverso l'aeroporto di Nizza dove già sbarcano importanti flussi. Ecco, i collegamenti con l'aeroporto sono cruciali, state lavorando anche in questa direzione, c'è qualche prospettiva? Beh, sì, sono assolutamente cruciali, il bello sarebbe creare un collegamento diretto con l'aeroporto, se ne parla da anni e soprattutto un collegamento diretto almeno con la stazione di Nizza. Qualcosa è stato fatto, adesso tra l'altro i francesi stanno lavorando per il collegamento della stazione con l'aeroporto e quindi sarebbe veramente molto comodo aggiungersi al collegamento che già esiste, ad esempio, sugli autobus fino a Monte Carlo. Ecco, andando a chiudere, dopo la stretta di mano simbolica di oggi, quali sono le prospettive con questi mercati orientali? Beh, le prospettive sono molto interessanti, tra l'altro è un livello di clientela e molto interessante alla destinazione, all'agromania, ma soprattutto allo shopping. Quindi Sanremo nei prossimi anni si arricchierà di nuove opportunità e credo che andiamo sulla strada giusta. Grazie a tutti i nostri spettatori